Ormai la partita è in zona Cesarini. I vertici romani del PD e del Movimento 5 Stelle sono pronti a scegliere il candidato alla presidenza della regione. Importanti indicazioni sono arrivate ieri sera dopo il confronto tra Elislein e il segretario Vittorino Facciolla, che hanno impostato lo schema di gioco. E sicuramente, ha puntualizzato il segretario a Teleregione, non sono state trattate posizioni di alcuna natura. Non siamo al mercato delle vacche, smettendo le voci circolate nelle ultime ore sulla vicepresidenza. Il PD dovrà trovare la convergenza con l'altro azionista di maggioranza della coalizione, il Movimento 5 Stelle, che ha intenzione di mettere il proprio timbro sul nome del candidato governatore. Decisivo il confronto tra il leader Giuseppe Conte e il coordinatore Antonio Federico, che ai rappresentanti molisani dei partiti alleati ha proposto già alcuni nomi. L'impressione è che la scelta sarà fra una triade. Il capogruppo Andrea Greco, il giornalista Domenico Iannacone e il sindaco di Campobasso Roberto Gravina. Intanto, il Movimento Un'altro Molise Possibile ha deciso di tirarsi fuori dalla coalizione di centrosinistra. Non ci riconosciamo né metodi né tatticismi né personalismi dei professionisti della politica locali, sottolineano, ribadendo la volontà di dare un segnale di discontinuità rispetto alle politiche scelerate degli ultimi decenni. In alto mare, invece, il centrodestra, che dovrebbe incontrarsi alla fine della prossima settimana. Tanti gli aspiranti presidenti. Nell'ultimo tavolo, otto i nomi proposti, tranne quello del rettore Luca Brunese, che sembra fuori dai giochi. Anche in questo caso sarà Roma a dover operare una sintesi. Tutto a meno di un mese dalla presentazione delle liste.